Tra vari obiettivi e record raggiunti con Polaris Dawn, era incluso anche un concerto eseguito dallo spazio e da sei orchestre distribuite su tutto il pianeta. Un'occasione, ha detto Sarah Gillis, in diretta dalla Crew Dragon con il suo violino, che simboleggia l'unità e la speranza, per focalizzarsi sulle potenzialità dei giovani di tutto il mondo e sulla loro capacità di reagire ai traumi e alle difficoltà. Jared Isaacman, l'ideatore della missione, ha sempre affiancato il suo progetto alla raccolta fondi per l'ospedale St. Jude, che si occupa della cura del cancro nei bambini e di ricerca scientifica. Grazie al linguaggio universale della musica, al compimento dell'ambiziosa missione e proprio dallo spazio, ha voluto lanciare un messaggio per ispirare le nuove generazioni a guardare verso le stelle, non solo per sognare, ma per lottare e perseverare e ottenere così ciò che sembra impossibile. È scritto sul sito della missione. Le donazioni questa volta non erano dirette solo all'ospedale, ma anche a El Sistema, un programma di educazione musicale per bambini. All'indomani della prima attività extraveicolare compiuta da privati cittadini, sul profilo ex di Polaris Don è apparso un messaggio curioso, collegamento confermato, restate sintonizzati. Poi un conto alla rovescia, dove note e strumenti musicali si univano al cielo stellato e alla fine la sorpresa. Un video di quattro minuti e mezzo in cui il tema di rei di guerre stellari veniva eseguito combinando strumenti di quattro continenti e un violino dallo spazio. Un suggestivo prodigio di sincronizzazione utile anche per testare i satelliti Starlink. L'equipaggio della missione è rientrato ieri sulla Terra con un ammaraggio nel Golfo del Messico.